Sono stati pubblicati i dati dello studio svolto dall'Ufficio Migrantes elaborato dall'ISTAT. Gli stranieri in Sicilia sono 193.000, di cui si contano 101.000 uomini e 91.000 donne. La città con più stranieri è Palermo, ne vanta 36.381, pari al 2,9% della popolazione. Mentre la città con meno presenza di stranieri è Enna, con 3.754 persone straniere, pari al 2,3% della popolazione. Ragusa accoglie 28.000 immigrati, pari al 9% della popolazione provinciale, ma il dato interessante che coinvolge Ragusa è quello dei cittadini minorenni. Il 21,9% degli stranieri in provincia di Ragusa sono minori e questo rende Ragusa la provincia con la più alta percentuale di minori stranieri non accompagnati. Un altro dato interessante è quello riferito ai porti che hanno ricevuto più sbarchi. Nonostante l'idea comune che sia Pozzale il porto più utilizzato, in realtà la struttura portuale in provincia di Ragusa si attesta solo al terzo posto preceduta da Catania e Augusta.